È dedicato ai bimbi ucraini il concerto di Natale, Notte di Pace e Notte di Speranza, organizzato dal distretto Rotary 2072, che comprende l'Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, che si svolgerà il prossimo 2 dicembre alle 21 in San Petronio. Il concerto sarà eseguito dalla Young Musicians European Orchestra, diretta da Paolo Olmi, con musiche di Mozart, Tendel e del bolognese Ottorino Respighi. Parteciperà anche il coro ucraino dei bambini della città di Ternopil. Al concerto saranno raccolti fondi in favore di un progetto del Rotary, che prevede di ospitare bambini ucraini la prossima estate in località della Riviera Romagnola. Il 2 dicembre, su Eminenza Cardinazuppi, ci ha reso disponibile la Basilica di San Petronio per un progetto molto importante, cioè una raccolta fondi che ci aiuti ad ospitare i bambini ucraini, vittimi di guerra, orfani o sfollati nella città di Ternopil, città al confine della Polonia, dove gli ucraini hanno portato molto velocemente i fragili, i anziani e i bambini, per salvarli dagli orrori della guerra, e portarli a una vacanza presso di noi. E quindi quest'estate aspetteremo 40 bambini sulla costa romagnola per due settimane. Il concerto sarà aperto alla cittadinanza e quindi le porte della Basilica saranno aperte dalle sette e mezza in poi ad accogliere tutti. A tutti chiediamo un piccolo sforzo, proprio per aiutare noi Rotary e le altre associazioni a sostenere questa raccolta fondi. Ovviamente siamo lieti e c'è proprio una consonanza di intenti, l'attenzione del Cardinale per i bambini ucraini e l'attenzione del Rotary, che appunto si uniscono e quindi ben volentieri noi partecipiamo.